Bene, allora ogni tanto mi chiedete di parlare di alcuni gestori, alcuni prodotti, alcuni servizi, un po' in generale. Cerco di accontentarvi e naturalmente queste cose devono interessare anche a me e magari devono essere anche un po' utili e forse interessanti. Se non fosse così non ne parlo per questo motivo, quindi non vi offendete se magari mi chiedete una cosa e non esco fuori con quel discorso. E diciamo per approfondire, perché questa cosa mi fa piacere perché volete sentire un po' la mia opinione e questo naturalmente andiamo a vedere subito. Insomma cosa parliamo? Parliamo di questa cavolo di poste mobili e casa web che in tanti me l'avete chiesto e mi dite sempre dov'è la fregatura? Allora nessuna fregatura, almeno non c'è una fregatura dietro, bene o male sono delle tariffe, una tariffa con un'offerta in questo momento attuale, poste mobili e casa web invece di 26,90€ c'è 20,90€ al mese. Quindi cosa comporta questa poste mobili e casa web? Comporta un costo mensile di 20,90€, c'è traffico illimitato, poi c'è il modem wifi incluso ed è anche trasportabile. Cioè nel senso non è che siete obbligati a usarla solo esclusivamente a casa vostra, ma questo modem lo si può anche prendere e portare, magari andate in vacanza, voi siete in un albergo, in un residence, nella seconda casa, terza, quarta, quinta casa, insomma la potete utilizzare dove volete. Basta collegarlo alla presa e il gioco è fatto. L'attivazione è di 29€ e la spedizione è gratuita. Interessante la velocità massima che qui dice che arriva fino a 300 Mbps in download e 50 in upload. E naturalmente dipende sempre da dove uno si trova, quindi dalla linea che abbiamo in quel momento. Quindi non è detto che andate, prendete, attaccate e sparate ai 300. Non è così, loro dicono, è per quello che c'è scritto fino a, quindi è il massimo di velocità che potete raggiungere. Altre cose, altre caratteristiche, andiamole a vedere insieme. Quella che c'è scritto qui, caratteristiche del modem e il modem wifi, puoi collegare tutti i dispositivi che uno vuole. Come vedete c'è scritto 300 Mbps in download e 50 in upload. Si hanno quattro porte LAN, quindi la possiamo collegare direttamente anche nel computer, quindi dal wifi, dal modem, lo colleghiamo direttamente al portatile, al nostro computer oppure in wifi. Quattro porte. In dotazione c'è anche un'antenna per migliorare la ricezione del segnale. È già integrato, insomma, compreso nel pacchetto in questo modem router. Allora, le cose importanti, il termine condizioni, quello che c'è scritto, la carta sim non è abilitata al traffico voce, sms, logicamente questa qui è solo una sim che può navigare e non può essere utilizzata in roaming, quindi dovete rimanere interni, non ve la potete portare all'estero, non funzionerebbe. Il costo, come ho già detto, sono 20,90€ invece di 26,90€. Questo però è fino al, se viene attivato, entro il 30 di giugno, quindi di questo mese, salvo proroghe, quindi dipende anche se, non so, prorogheranno questa offerta. Il modem, come abbiamo già detto, è gratuito, è incomodato d'uso, quindi non rimane a voi. Se doveste decidere di andare via, quindi basta, stop, non ne voglio più sapere di questa offerta di poste mobile, naturalmente bisogna disdire. E poi verranno, insomma, tutto il procedimento che ci sono solitamente, entro i 30 giorni viene fatta questa disdetta e poi naturalmente a vostri, a nostri costi o spese, o consegnarle magari negli uffici postali, bisogna riportare il router che, ripeto, è incomodato d'uso. Tipi di pagamento si possono pagare o facendo la debito sul nostro conto corrente oppure con i bollettini postali, quindi andate a spendere anche quell'euro, quant'è, 1,50€, 1,80€ del bollettino, quindi è anche un costo in più. Poi, tra le spese, bisogna aggiungere anche questa imposta di bollo che è di 16€ e viene fatturata, quindi sono rateizzate in 8 fatture. Una volta fatta la richiesta, quindi, di questa offerta, questa poste mobile casa web, niente, arriverà a casa, qui dicono, entro i 4 giorni lavorativi e poi bisognerà fare l'attivazione del servizio. Quindi il modem lo si collegherà direttamente in una presa, è già inserita la SIM, questa qui è una connessione tramite SIM e niente, bisognerà poi, come dice qui, inserire i dati, il codice fiscale, il numero ordine, il codice email che ci sarà all'interno di questo modo, inclusa nell'offerta, e poi basta, dovrebbe partire tutto automaticamente, quindi dovrebbe essere molto molto semplice, lo si può, come già detto, lo si può collegare all'interno, quindi tramite la LAN, direttamente sul nostro computer portatile o computer fisso, oppure tramite wifi, le password lo si trovano dietro il nostro modem. Qui la cosa che viene specificata, che può essere interessante da guardare, è le velocità di connessione, quindi se noi siamo sotto il 4G+, potremmo arrivare ai 300 Mbps, se invece siamo solo 4G fino a 150 Mbps e se dovessimo purtroppo essere sotto copertura solo in 3G, arriveremmo a questi 42 Mbps. al secondo. Bene, nient'altro da dire, dopo nelle condizioni generali del contratto ci saranno tante cose da andare a vedere, datevi una sfogliata se siete interessati magari a questa offerta. sono 20,90€, quindi 21€ per avere un internet senza limiti e dire, se avete una buona copertura poste mobile, direi che può andare bene. Allora, dovrebbe andare sotto copertura Win 3. I primi router, quando la storia un po', non voglio farvi la storia del poste mobile, ma poste mobile uscì sotto la copertura Vodafone, poi dopo è stato cambiato negli anni, è andato sotto copertura Win 3 e alcuni servizi con rete di telefonia e internet sono magari modelli vecchissimi, contratti vecchissimi, sono ancora sotto Vodafone, però qui non essendo sotto telefonia dovrebbe essere sotto copertura Win 3. Va bene ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo video e per questo poste mobile, casa, web, pim, porpum, paravam, paravam, è tutto, poste mobile, casa, web, è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, in solito abbraccio a tutti e tutti i nuovi vecchi iscritti, è un saluto a chi mi vuole bene, ho invertito, avete visto? Eh, anche stavolta ho invertito. Ciao, ciao, da tutto. Ciao, 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 ciao.